Pochissimi giorni all'avvio dell'anno scolastico con ancora poche certezze il jacuzzi dell'assessore veneto di reparto. Perché il governo è contraddittorio, il comitato tecnico scientifico cambia idea ogni giorno e per noi è difficile dare le comunicazioni ai dirigenti scolastici. Nello specifico il problema si pone per gli studenti grandi e piccoli con allergie anche stagionali che con starnuti, raffreddori e febbre potrebbero presentare sintomi equiparabili a quelli del covid e per i quali, come da disposizioni governative, verranno posti in isolamento con il risultato che la cosa, se non segnalata dal medico di medicina generale e così dal pediatra di turno, si avranno da una parte classi decimate e dall'altra pediatri in affanno. Nel frattempo per quei bimbi ci sarà un isolamento immediato, la chiamata del pediatra attraverso la famiglia, quindi la famiglia sarà la prima ad essere coinvolta e poi si deve vedere se questo bambino sarà positivo o meno. Finché la metasta non verrà diparata dal governo, il rischio è che i bimbi e studenti con allergie staranno comunque in isolamento fin tanto che non presenteranno il certificato medico attestante appunto l'allergia. I bambini poi ad una certa età hanno la febbre sovente, quindi sarà, ed abbiamo immaginato questo percorso con i medici pediatri, un isolamento diciamo immediato nella scuola se dovesse esserci un aumento della febbre. Noi abbiamo chiesto che ci siano i termoscannere e non quelle lungaggini di misurazioni che farebbero perdere molto tempo, vediamo cosa ci risponderà il governo. L'unica nota certa è che la scuola partirà dall'unidì prossimo, 14 settembre. La scuola in Veneto può partire con almeno i distanziamenti definiti. Il distanziamento permetterà di non avere la mascherina in classe, salvo che non ci sia, e Dio non voglia, un peggioramento della situazione. Ma in questo momento no mascherina in classe, distanziamento, all'entrata e all'uscita le mascherine e ancora al nodo irrisolto dei trasporti.